Da qualche tempo Darwin è divenuto l'emblema della società laicista e competitiva di cui siamo abitatori, la quale società fa di Darwin un uso ad alto tasso ideologico che sarebbe del tutto fuorviante intendere in funzione scientifica. Darwin diventa, potremmo dire così, l'emblema della società capitalistica contemporanea che lo innalza a proprio riferimento ideologico costante. L'uso che oggi si fa di Darwin è solo in apparenza scientifico, essendo invece, se correttamente inteso, di tipo ideologico e politico. Per un verso i vecchi alfieri del 68 hanno abbandonato la bandiera di Marx per riciclarsi nella bandiera di Darwin, divenendo essi stessi da sostenitori dell'universalismo proletario, sostenitori dello scientismo assoluto che non accetta chiacchiere metafisiche, religiose, artistiche. In nome della scienza essi pretendono di innalzare la scienza stessa a superstizione scientifica, cioè a unico sapere valido e riconosciuto, con annessa delegittimazione di ogni altra forma di sapere che non sia la scienza stessa. In questo modo essi diventano i tarantolati del darwinismo e trasformano Darwin in una forma di feticcio del quale non è possibile mettere in discussione neppure scientificamente le tesi. Per un altro verso, potremmo dire così, Darwin solo in apparenza, come già dicevo, è emblema della scienza. Diventa invece, se rettamente inteso nel suo uso ideologico, il riferimento di una visione del tutto ideologica. In che senso? Per due sensi essenzialmente. In primo luogo Darwin diventa l'emblema della società competitiva neo-darwiniana che stiamo vivendo. La società del competitivismo assoluto, la società che innalza le leggi del libero mercato a ubicon system dell'intera vita sociale. La società della privatizzazione integrale della vita individuale fa sì che tutto sia scandito e ritmato secondo le norme del darwinismo e della legge della sopravvivenza del più forte. L'odierna società è darwiniana nella misura in cui non riconosce alcuno spazio a valori come la solidarietà, la fratellanza, la giustizia sociale e quant'altro. Solo il più adatto, id est il più forte, è legittimato esistere. Il libero mercato in fondo, al di là di ogni velo ideologico, questo significa la libertà per il più forte di massacrare il più piccolo senza alcuna possibilità di mediazione da parte di forze terze come lo Stato. Dunque Darwin diventa emblema della società competitiva. Per un altro verso, e procedo molto rapidamente, Darwin diventa oggi l'emblema dell'ateismo individualistico coessenziale al nichilismo della tecnica e del capitale dominanti. Oggi chi pensa sulla scia di Odifreddi o di Flores d'Arcais, per citare due nomi della galassia laicistica contemporanea, che la scienza sia in qualche misura e l'ateismo siano sinonimi di scientificità, perde di vista il sostrato ideologico di questa prospettiva. Oggi la scienza e l'ateismo figurano come alleati ideologici dell'individualismo libertario tipico della società di mercato. Nella misura in cui Dio storicamente è sempre stato il riflesso trascendentale della comunità umana, o se preferiamo è stato anche l'immagine del rapporto creaturale che lega fra loro gli uomini come uniche creature e quindi affratellate nell'amore che le unisce rispetto al creatore. Rimuovere Dio, segnare la morte di Dio, significa perciò stesso rimuovere il nesso comunitario intersoggettivo, far trionfare quella che con Hegel potremmo chiamare il sistema dell'atomistica, ossia l'individualismo competitivo in assenza di Dio, di valori comunitari e in assenza di ogni relazione intersoggettiva. È il tempo del narcisismo assoluto, dell'egoismo individualizzato e rapace ciò che ci ricollega ancora una volta alla prospettiva competitivistica della società. Ecco perché oggi Darwin, apparentemente impiegato come riferimento alla scientificità e alla conoscenza scientifica, diventa in realtà la bandiera ideologica della società di mercato contemporanea.